Sono tornata a casa con la parte sopra tutta bionda e la coda sotto tutta nera, così quando facevi la coda vedi tutto il nero sotto e tutto il biondo sopra, quello era veramente una tamarrata clamorosa e penso che sia stata così recepita benissimo, tipo la mia madre audace caffonata Gli anni 90 hanno rappresentato un decennio di grande fermento nel mondo della moda contraddistinto da una straordinaria varietà di tendenze e stili Uno dei trend più iconici è stato il grunge, ispirato alla vivace scena musicale alternativa di Seattle e caratterizzato da jeans strappati, camice di flanella a quadri e maglioni oversize Dall'altro lato il pop lanciava tendenze che seguivano star del calibro di Britney Spears e Madonna e quindi via di look da scolarette, camice da cheerleader, pancia scoperta e nessulle mani L'industria della moda, quella vera, favoriva l'ascesa delle supermodel da Kate Moss a Cindy Crawford La moda degli anni 90, insomma, è il riflesso della diversità e della complessità della società di quel decennio Una società che, tra i giovani, vedeva crescere due comunità ben distinte con le loro tendenze e i loro look I tamarri e gli alternativi Io sono Federico Russo E io sono Daniera Collu E questo è Sfida da 90 Da che parte stai? Allora Fede, ora tu mi vedi così, in quest'eleganza senza tempo Sì Ma io mi prendo il tamarro Sei vestita tra l'altro come me Sei vestita uguale a me Sembriamo Britney Spears e Justin Timberlake in quel famoso VMA È vero Un po' jeans, però io voto tamarro Il tamarro con le scarpe da ginnastica enormi, con le collanone Tutti i brand possibili e maggiore Solo loghi a vista, giganti, enormi Con i jeans, quelli che se non c'avevi il jeans giusto allora non eri della cumpa Io voglio quello, io voglio il tamarrone Va bene, allora io mi prendo l'alternativo con delle tinte un po' grunge Maglioni oversize, pantaloni, jeans larghi Un po', cioè, capito, perché comunque, cioè, mi interessa Cioè, capito, voglio stare comodo Che non ti lavi? Io voglio stare comodo Non mi lavo, non mi lavo, ho i capelli lunghi e sporchi Sì, sì E le collane anche Ah però Metto anche una collana, che tra l'altro avevo anche qualche anno fa Ma non state a credere Una catenazza un po' spessa, non troppo, ma un po' spessa Sempre perché non me ne frega niente No, io troppo invece, io voglio proprio il collanone Perché sei una tamarra, sei tamarra Sì, sì, va bene Io invece sono alternativo, prendo gli alternativi, va bene Va bene, allora in questa sfida tamarri versus alternativi Come al solito abbiamo bisogno di un ago della bilancia Abbiamo chiamato la nostra amica Federica Masolin Ciao ragazzi Ciao amore, benvenuta Grazie per l'invito Ma grazie a te devi fare l'ago della bilancia in questa nostra sfida Alternativi contro tamarri Il tuo voto potrà Riuscire a ribaltare il risultato Esatto, però prima noi vogliamo sapere dei tuoi anni 90 Cioè, vogliamo immaginarci la Federica degli anni 90 Ok Cosa ti ricordi? Tu intanto eri giovanissima Ero giovane, ero giovane Mi ricordo sicuramente il Cioè Lo ricordate quel giornaletto con gli stickers? Tesoro, io ci sono finito su Cioè Ma lo so, copertina Copertina adesiva e anche poster Copertina adesiva O figliole Però era già 2000 Forse era un po' più grande in celle Il Cioè non lo sfogliavo Ma sì, non ti sfogliavo più È simbolo degli anni 90 Ma anche negli anni successivi ancora resiste il Cioè Quindi quando lavoravo MTV Perché Cioè mi è capitato Comunque ci siamo tutti formati Sentimentalmente e sessualmente parlando su Cioè Cioè a un certo punto tutti abbiamo letto almeno un Ma se do un bacio con la lingua resto in cito Cioè quella è la cosa Questa gente non sviluppata ancora Che faceva questo tipo di domanda No, c'era Cioè e c'era anche TV Stelle che era ancora più spinto Non so se ve lo ricordate TV Stelle ti spiegava proprio come si fa Cioè andava un po' più sullo spinto Un po' più dentro Ok, dentro alla notizia Un po' più dentro andava Se ci pensi un sacco di ragazzi l'hanno imparato così Poi dare un primo bacio Ad avere anche risposte Anche grazie al passaparola Cioè comunque quello che ti insegnava perché c'era già passato insomma Sì, poi c'era Vabbè, vabbè Quindi cioè Stiamo entrando in armi No, sono un ginepraio Spinosi Sì, non volevo portarvi lì E mi ricordo tutti i gingilli che nel Cioè venivano regalati I ciucciotti Gli orsettini colorati da mettersi al collo Mi ricordo la musica anni 90 Mi ricordo la spensieratezza che avevo in quegli anni Perché ero tanto giovane Quindi questo, direi questo Avevi la compagnia? La compagnia? Sì, certo Ti ritrovavi sui motorini per esempio Quelle cose che adesso non si fanno più No, adesso non si fa più No, mi sa che ti incontri su Instagram Ma ti facevano uscire? Cioè i tuoi genitori erano permissivi con te? Mio padre un po' meno Però diciamo che ho sempre avuto abbastanza libertà Perché ero una ragazzetta molto coscienziosa Questo è vero Quindi se mi davano un orario, quello era Mia sorella invece faceva tutto il contrario Quindi avevo imparato insomma i trucchetti per aggirare Quelle che potevano essere loro ansie Che forse erano un po' meno rispetto a quelle che ci sono oggi Quindi anche questo è qualcosa che manca un po' rispetto a quegli anni 90 Però sì, avevo la compagnia, avevo gli amici col motorino Mio padre diceva mettiti il casco, non andare in motorino con gli altri Prenditi solite paturnie da genitore Ti ricordi il coprifuoco che ora era, le prime sere che uno inizia a uscire D'estate D'estate saltano gli schemi secondo me Ma oddio sai abitando a Milano comunque Secondo me ho iniziato a uscire la sera forse a 16 anni Grandicella 15-16 anni fino a mezzanotte No, beh ci sta Ma sì, è anche l'età giusta Poi dipende chi frequenti Se i tuoi genitori li conoscono oppure no Se qualcuno è più grande Forse sono un po' più permistivi Io ero la grande di casa Quindi forse erano ancora un po' più resti a lasciarmi andare Molto Ma poi bisogna capire se hanno sgamato Che nella committiva c'è anche quello che ti piace E quindi si immaginano che stai lì sui motorini A chiacchierare, a scambiarti la musica Oppure se ti imboschi da qualche parte A dare i primi baci Quello pensava mio padre Beh, non lo so Il mio sì, per esempio Con chi esci? Come si chiama? Quanti anni ha? Dove abitare in suoi genitori? Non lo so Adesso Non sono pomiciare papà Io volevo solo pomiciare No, però non lo so Posso dirti Mio papà è sempre stato molto rigido Quindi al di là del limone o del pomiciare Forse era proprio una questione di regole Poi quando ho preso la patente non le ho più avute Però vabbè Ma il telefonino? Sì A quanti anni? Ah, prestissimo Molto presto Che sono Cioè stiamo parlando ancora dei telefonini Come si chiamava? 8310? Quello con le cover Il motor No, era un Nokia 8210 8310 Quello con le cover colorate Quello con le cover colorate Forse ero in prima media Quindi erano pieni anni 90 Sì Eh sì, ma lì lo volevano tutti il telefonino Sì, sì No, ce l'avevo Lì è super tecnologico Super permissivo da quel punto di vista mio padre, sì Però ti telefonavano Non erano gli smartphone No, facevi gli squillini Quindi al massimo era per dire sì sono ancora viva Quindi SMS super ristretti perché dovevi pagare meno Senti, oggi vogliamo parlare della moda degli anni 90 Cioè nel senso che c'è questa sfida appunto che adesso portiamo avanti anche con il tuo aiuto Tra tamarri e alternativi Ok Tu ti ricordi Intanto qual era il tuo rapporto con la moda Il rapporto che può avere una ragazza di 14 anni, di 13 anni con la moda Che è una cosa importante Cioè nel senso E il tuo modo di esprimerti? Beh direi Io mi ricordo una certa cura Ce l'avevo anch'io Cioè io mi preparavo le cose da mettermi la mattina dopo Per andare a scuola Cioè comunque c'è una cura Beh c'è una cura Senti anch'io molto attenta Che metti Ma io ero in un gruppo in cui devo dire la moda è arrivata molto tardi Infatti quando eravamo insieme non sembravamo un gruppo C'era quello che stava sempre con la tuta da ginnastica Quella che stava sempre con la gondellina Che capivi che ancora gli era comprare la mamma Perché comunque quando sei adolescente c'è quella terra di mezzo Non capisci chi ha deciso cosa c'è nell'armadio Quindi o erediti le cose dai tuoi cugini, dai tuoi fratelli E quindi i gusti e i nostri di qualcun altro O è l'unica cosa pulita O è l'unica cosa che tua madre non vuole che tu ti metta E quindi te la metti per protesta Cioè comunque è un momento abbastanza di confusione In particolare la verità è che mia madre dice che sin da quando ero molto piccola Ho sempre fatto storie per come vestirmi Quindi sul vestire ho sempre avuto Sì sempre Ho sempre avuto proprio il mio spirito critico Anche rispetto a come mi dovevo vestire o a chittare per andare a scuola E cosa ti piaceva? Cosa ti mettevi? Faccele immaginare questa Federica degli anni 90 Allora no mi ricordo una roba tragica Che con le mie compagnie di classe ci chiamavamo il giorno in cui dovevamo mettere la gonna Perché la gonna o la metteva una o la metteva nessuna Capito? O tutte o nessuna C'era il giorno della gonna Quindi tutte con la gonna Mi ricordo Gli anfibi dell'883 Con gli scaldamuscoli sopra Aspetta aspetta Cosa sono gli anfibi dell'883? Ha ragione Sono gli anfibi dell'883 Con lo scaldamuscoli sopra Porca miseria Connellina e poi maglioncino, camicetta Dipende da quello che proponeva l'armadio la mamma Che ti aveva lavato, stirato, pulito eccetera Questa è un'immagine che ho dei miei anni 90 Capelli? Capelli righe e mezzo Ma abbastanza semplici Lisci Non un colore Fin qui sei vestito uguale a me Anche tu vuoi gli 823? Un caterpillar forse Forse più Dr. Martens Forse più Dr. Martens Però sulla riga in mezzo Che è rimasta tra l'altro Capello liscio Super liscio Grandi piastrate Ovviamente queste punte Che sparavano da ogni dove E poi il fatto di vestire Con le cose larghe Era anche dovuto al fatto Che poi dopo ci cresci dentro Io ho sviluppato molto tardi Sono sviluppato molto tardi Quindi ti racconto che Fino alla terza media Quarta ginnasio ero alto così E quindi te sei portato fino a me Poi sono diventato un metro e novanta Però ovviamente Mi venivano presi dei vestiti Di taglie larghe Perché poi tanto ci cresci dentro Quindi mi ricordo Almeno vedo da delle foto così Era anche un po' la moda Però avevo dei maglioni Delle maglie molto over Sto pensando a te nel 94 Tipo cucciolo Dei sette nani Con questi folponi Con questo maglione Che sembrerebbe una roba Un po' la carcobain E invece no Era solo per portare Solo negli anni Sì forse un po' era Era quello Ma voi non c'eravate quella cosa lì Che ci cresci dentro? No Tagli proprio perfetti Non ci credo Io sono l'ultima Di 13 cugini Quindi ho avuto Tutte le età Tutte le taglie Colori Sì sì proprio io Ho inventato io L'armadio genderless Cioè mi mettevano qualunque cosa Tutte le cose di mia sorella E poi a un certo punto Ho potuto scegliere Quindi mi sono fatto Uno stile personale Però veramente Ho ereditato qualunque cosa Dalle tute Alle giacche di jeans Le giacche di pelle I bomber Io mi ricordo Il mio primo bomber Che era del colore sbagliato Rispetto a quello Di tutti gli altri Ma comunque Era avancione all'interno E allora era perfetto Perché era sbagliato? Era verde militare E tutti ce l'avevano color ghiaccio È giusto anche verde militare È bellissimo È bellissimo Ce l'ho ancora Bellissimo Stupendo Grazie ragazzi E almeno voi Senti invece qual è Il capo di abbigliamento Che più desideravi Non so Magari per noi era Insomma le Jordan Mi ricordo Le Barclay Insomma quelle che costavano tanto Che i tuoi magari ti dicevano Senti oh Magari anche il capo di abbigliamento Che poi Ti sei tolta lo sfizio Ah l'hai comprato da grande Eh da grande Dici wow Ho messo da parte due lire Posso dirti Ero viziatella Nel senso che Quello che mi piaceva Di solito avevo Ma non chiedevo tanto Quindi la verità è che Ero la prima nipote Per la nonna paterna Quindi mi regalava un po' di tutto Un po' Cosa mi piaceva Cosa ho voluto Sì forse delle Jordan Forse delle Jordan O delle Sì delle scarpe da ginnastica sicuramente Perché poi io ho sempre amato lo sport Quindi ero molto femminile Facevo danza classica Ma L'idea di essere Anche un po' A livello Dei maschi Andare allo stadio con mio padre Andare in autodromo con mio padre Mi piaceva un sacco Quindi non potevo andarci Proprio di tutto punto E quindi sì Forse scarpe da ginnastica Sì Ma si può dire La Ferrari La Ferrari La Ferrari tifo Va bene ti sei salvato No la verità è che adesso Con il passare degli anni Lavorando nello sport Ho perso un po' di interesse per il tifo Sì Però sì no Ho la mia squadra Cioè ho Ho la squadra che spero vinca Però Non è che la nazionale La nazionale ragazzi La nazionale La nazionale La nazionale Sì 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 Va bene dichiarate la vostra icona di stile degli anni 90 Credo che proprio la guardavi dice Io voglio essere come lei Io voglio essere come Oh La ditemi la vostra Beh io ho avuto un periodo che volevo essere come Zack Morris Quello di Bayside School Anche Kelly Caposchi era bella Cioè io volevo essere Zack Morris perché avrei voluto costruire una vita insieme a Kelly Caposchi Con Kelly Caposchi Tiffany Amber Thyssen Sì Che poi ha fatto anche Berlis Che tra l'altro ha la faccia più larga della mia Quindi se io avessi mai fatto un figlio o una figlia con Tiffany Amber Thyssen sarebbe venuto fuori un Una gran mascella Sì Una bella mascella Sì Una mascella Un schermo piatto Ce l'ho la mia Bell'Oled Ce l'ho la mia Bella bellissima Victoria Beckham Ah Cioè aspetta Amavo Victoria No 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 Spice Quale Victoria Beckham perché sai che ci sono le fasi delle Spice Girls Quindi quale Victoria L'amo sempre anche oggi La trovo super cool Prima è Victoria Adams allora proprio Sì scusa è vero È Victoria Adams sì Tubino Caschetto Super posh La vera Vicky Sì Lei Victoria Beckham Victoria Beckham Eh io qua purtroppo devo tradire Adesso la gara Perché so che ho scelto i tamari Perché io dentro sono tamarra Diccelo Però la mia icona di stile era alternativa Ed era Meg dei 99 posse Dai Perché mi sembrava bellissima e indossava le cose che potevamo indossare noi Cioè aveva questi Ma lo è infatti Bellissimi Poi si faceva quei ciuccetti nei capelli Stai votando per la mia squadra però così Lo so lo so Dichiaratamente ho già vinto Poi mettevo altro però io lo guardavo e dicevo Guarda quanto è Cioè oggi direbbero cool Però era incredibilmente Aveva una personalità Forse il coraggio no Sì Di essere quello che era E poi non era tanto costruita Perché altrimenti no Arrivavano appunto Britney Spears Comunque già dai video musicali Anche la micca è un po' Costruzione Però E invece lei era super spontanea Ed era stilosissima Ma tu guardavi le serie tipo Sei della generazione Certo Besside school Quelli principi di Bel Air Ma anche Beverly Hills Sono ancora la Ehi questa è la maxistoria Ricordate Certo Tutti Per noi ragazzi Negli anni 90 Sì 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 Amavo le serie Beverly Hills Meryl's Place Forse era un po' Più da grande Troppo adulto Meryl's Place Sì era un po' da adulto Sì succedevano cose Troppo drammatiche poi Diciamo che Beverly Hills Sono quelli di Meryl's Place Che ancora non sono sviluppati Tipo Sì sì Tipo Ci può stare Senti cosa hai tenuto Dei tuoi look Degli anni 90 Un bomber Sicuramente Anche io il bomber Qualche sneaker Sono riuscita a salvarla Perché La mia nonna Era una che non buttava via niente Brava Quindi ho delle adias Meravigliose Le ricordo quelle In vellutino Con delle strisce tutte colorate Le ho ancora Poi poco altro forse Ho ritrovato qualche Orecchino con i ciuccetti Sai quelle Quelle cosine Da femmina Da bambina E cosa sperate Che invece Non torni mai Dalla moda degli anni 90 Perché adesso stanno Ora stanno Stiamo riabilitando tutto Sì No? Quindi la vita bassa È tornata Le baffalo Forse erano prime 2000 Però forse Le baffalo Anche sui anni 90 Ecco quelle io spero Non torni Ti piacciono Io le comprerei adesso Le scarpe con una para Molto importante Io le comprerei adesso Le metteresti? Sì Subito Subito No io no Ma quella è un retaggio Underground però È un po' tamarro anche Se vogliamo È vero È vero Le baffalo forse sono proprio Terra di confine Secondo me è più roba Tamarro Diciamo Le fornarina Te le ricordi? Certo Quelle mi piacciono Secondo me le fornarina Erano più tamarre E le baffalo Cioè le baffalo Le videvi anche ai rave No Ma sì forse sì Ma i rave avevano Le baffalo Ma rave infatti Era Insomma il mondo del rave Metteva insieme Sia il mondo del tema È un po' Però quelle spero non tornino Io non ho una cosa Che spero che non torni Dai le scarpe con la zeppa Così con i lacci Ti piacciono Forse è quello però Ragazzi io dico solo una cosa I pantaloni a Pinocchietto Basta No L'abbiamo superata Siamo andati oltre Ma perché vogliamo rivivere Questi traumi Ma chi ce l'ha fatto fare Poi anche con quei colori Celestino Lillino Giallino Tutto pastello Poi a volte col pizzo sotto Con dei fio Ma che cos'è Un abominio Cioè non è qua Riprendere la moda Di un tempo È ragione È un crimine contro l'umanità Sono d'accordo con te Grazie Almeno su questo Per il resto farei tornare tutto Sì Tutto Riga e mezzo compresa La tua riga e mezzo Anche per me Posso sempre provarci Certo Vai Ci vuole nulla Vediamo Aspetta Adesso si apre lì No non è in mezzo No è ancora laterale Vabbè dopo ci proviamo Sai cosa servirebbe Del gran gel Sì Quello mi manca già meno La brillantina Quella è qualche anno prima Forse ancora Quello mi manca già meno Va bene ma qual è Il tuo Crimine di moda Degli anni 90 Cioè qual è la foto Degli anni 90 Che ti ritrai Che speri che nessuno trovi mai Allora ce ne sono un paio Ok E sono tutte legate Ai miei capelli Allora una volta Mi ero fatta un Look anni 80 Vi ricordate che andavano Gli anni 90 Quello col Col ciuffettone davanti Taglio un po' corto E più sfilato sotto Certo Cioè tipo mallet quasi Tipo Ok Lungo Brutto E un'altra volta Mi sono Forse prima Sono tornata a casa Con la parte sopra Tutta bionda E la coda Sotto tutta nera Così quando facevi la coda Vedi tutto il nero sotto E tutto il biondo Sopra Quello era veramente Una tammarrata Clamorosa Non male E penso che sia stata Così Ricepita benissimo Tipo la mia madre Ah un dolce Caffonata Una volta mi sono fatto Per sbaglio Capelli arancioni Che vuol dire Per sbaglio Perché ho usato Uno shampoo E non sapevo che era Schiarente E sono uscito arancione Io ero consapevole Invece Olanda E te li sei tenuti Ce li avevo lunghi Quindi un po' Me li sono tenuti E poi quando Sono cresciuti un po' Sotto Ho tagliato Però per un po' Sono andato in giro Però per un ragazzo Più facile Sì Un capello Un capuccio Quando da un giorno All'altro entri in classe Con i capelli Arancioni e fuoco Comunque fa Personalità Personalità Sicuramente sì Come la mia Farsi la coda Con questa roba Tutta nera sotto E biondone Vabbè quindi Visto che siamo in tema Posso chiedere Non un minuto Perché sarebbe troppo Ma due secondi di silenzio Così di raccoglimento Per tutte le nostre sopracciglia Negli anni 90 Anche Ci mancate tanto Non siete mai tornate Vi penso ogni giorno Scusateci C'era questa moda Negli anni 90 Di farsi le sopracciglia Sottili A Dali di Gabbiano Sì Chi è stata poi Cara delle Vigne Che ha riportato La sopracciglia Probabilmente sì A quello che deve essere Qualcuno di normale Ma nel frattempo Noi eravamo lì A spinzettarci Le sopracciglia Da anni Da decenni Brutto sì Molto brutto Vabbè Farò che poi li peggio È passato Non preoccupatevi Grazie Ma tornerà come Tutti gli anni 90 No 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 Io non voglio esserci Ho dato grazie Tutto ciclico Ci abbiamo messo un sacco Per ricoltivare Saremo fuori moda Si può essere fuori moda Ormai Nel 2024 Abbiamo superato Queste cose Va bene Allora secondo me Abbiamo capito Che più o meno Ci mettevamo Tutti le stesse cose Che a volte Eravamo un po' più tamarre A volte eravamo Un po' più alternativi Però io vi ricordo C'è una gara In questa puntata Allora è arrivato il momento Di giocare le nostre carte Per difendere le nostre tesi Io me ne gioco una Secondo me Molto importante Per quanto riguarda Il mondo Degli alternativi Ed è questo Guarda Lo voglio scrivere In verticale Come fai tu Vediamo Ed è Il mondo Della musica Signore e signori Beh La musica Anni 90 La musica Del cosiddetto Mondo alternativo Che poi insomma È una forbice Molto larga Però Abbiamo nominato Il grunge Prima Quanto sia stato importante Anche nello stile Il corcobane Gli smashing pumpkins Di hyper jam Per non parlare Di tutto il mondo Del Britpop Grazie Di tutto il mondo Del Britpop Che è quello Un po' diciamo Con cui mi sono formato Ecco Quindi Diciamo che Nel mondo musicale Vince il mio mondo Secondo me Allora io ho solo una domanda Quando tu vai allo stadio Cosa cantano? Cantano Carcobane O cantano le canzoni Dance Degli anni 90 Non mi rispondere Quando tu vai A capodanno A un dio al celibato A un matrimonio E parte il trenino Quando la gente È veramente felice Di stare insieme Cosa cantano? Gli smashing pumpkins O cantano una di quelle Belle tamarrate Da giostre Da sagra di paese Degli anni 90 Sì ragazzi Però ha citato lo stadio Che belle frate Che belle frate Cittano lo stadio Ma scusami Che bello della vittoria Po 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 Dai È più quel mondo lì Ma la cantano Versione dance Mica la cantano Lì col basso I pantaloni stracciati È vero Però io ho un debole Per il Britpop Di quegli anni Cioè non faremo il trenino Non lo so ragazzi Non facciamo il trenino magari alle nostre feste Però quanto ci si diverte Ma tipo i radio, quella gente là Io sono stata alle feste con te russo E te fai il trenino triste sugli oasis e i blur Quella è la tua cifra Lo fa il trenino Difficile questa Però fa tanto stadio Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? A noi piace anche lo stadio Ci sta convincendo anche tutte e due Please don't go Ma please don't go Oh ma senti come ti salgono dentro queste Subito vuoi ballare Sai di dove sono i W di Please don't go? Di Spezia Veramente Ma non ci posso credere Di La Spezia Niente, succedeva tutto qui La Spezia contro Manchester La Spezia contro Seattle Chi vince? Potrebbe vincere anche La Spezia Chi voti tu? Mondo musica Gli alternativi 100% 1-0 per me E' la musica che ascolta in macchina anche adesso Scusa Fede non ti preoccupare Io non sono arrabbiata Perché tu adesso torni da me Vai Perché ho anch'io una card E su questa card Anch'io In verticale scrivi? Sì Sì lo voglio fare in verticale Anch'io su questa card Voglio scrivere L'universo Da cui vado a prendermi La vittoria Con un pennarello che non scrive Perché sai perché Perché è degli anni 90 In effetti è proprio quello degli anni 90 E' il mondo in cui io voglio Che io e te Ci guardiamo negli occhi E ci incontriamo Vai E' quello degli accessori Vado nella moda signori E allora io ti dico che oggi pomeriggio Io e te usciamo E abbiamo delle sneakers bellissime Coloratissime Quelle che vanno di moda Che sappiamo che piaceranno Tutte le nostre amiche Poi abbiamo una Sbalangata di braccialetti fin qui Di quelli che fanno rumore mentre cammini Che ti sentono arrivare Da tre marciapiedi più in là Poi abbiamo Quelli con i chicchi Quelli con le collanine Con tutti i ciuccetti Con tutti i gadget Che uscivano con le nostre riviste preferite Poi abbiamo dei bellissimi orecchini Quelle conchiglie Quelle che prendevi Ti ricordo in spiaggia Quando trovavi nel mercato Bellissime Poi abbiamo tutti elastici E mollettine nei capelli E poi abbiamo una cosa Che io ti leggo negli occhi Che tu hai avuto Quella specie di collarino elastico Che ti metti di qui Che faceva il finto tatuaggio Degli anni 90 Sei nero che intrasparente Mi fa tossire soltanto l'idea Guarda Le brillano gli occhi Le brillano gli occhi Allora prima di tutto Noi alternativi Non avevano fidanzatine con quel robo lì però No ce l'avevano Sì sì Quindi poi Ce l'avevano Capito Allora prima di tutto Noi alternativi Non abbiamo niente contro le conchiglie Cioè il fatto che le conchiglie Siano tamarre È completamente un'idea vostra Io non ho detto Niente contro le conchiglie Quindi le conchiglie Sono un grandissimo amante delle arselle Anzi spero si ripoperino Anche di più Perché sono anche belle da vedere Frimungola Anche nel mondo degli alternativi Frimungola Frimungola Frimconchiglia Frimshell Ok Primo Secondo sti sciuccetti Che avete già nominato cinque volte Io non ve li vedo i sciuccetti addosso Dove sono questi sciuccetti Che tanto vi piacciono Perché non vi mettete i sciuccetti Dobbiamo conoscere per le nostre amiche Adesso ci stiamo preparando per la serata Ora siamo qui con te Noi possiamo sprecare I nostri migliori accessori Dannata per te Quindi te ti vorresti fare Una bella serata Ciuccetti E trenino Perfetto Ciuccetti oasis Magari Ciuccetti Trenino E poi Eh vongole Scusa Quini cosa vuoi fare Una bella serata con te Che non ti sei lavato i capelli Con il maglione di tuo cugino E i quattro tagli in più Capelli no eh Conchiglie No vieni dai Facciamo una classica serata Conchiglie e ciuccetti Sì Fatti Conchiglie vuoi piacciono anche a lui Vai Arringa in maniera Più convinta Così finisce così Non sta funzionando No vabbè volevo soltanto smontare Quello che ha costruito lei Credo di esserci riuscito Ma cosa avevate Ma gli alternativi Cosa avevano di accessori di moda Cioè ma la vostra personalità In cosa si tirava fuori Dai su Intanto però poi Ti piacevano quelli di Marrow's Place Con il ciuffo Un po' grunge Un po' Jake di Marrow's Place Ti piaceva Hai presente Jake Sì perché poi è vero Che comunque All'alternativo piaceva la Tamar E alla Tamar Per cui c'è difficile ragazzi Però sugli accessori Ha vinto Ah sì Questa cosa delle conchiglie Che non fa assolutamente parte Del mondo dei tamari Cioè l'ha preso Cosa vuol dire Dopo ti faccio vedere una foto Guarda veramente Hai preso in presso Una cosa bella Per comprare l'elettorato Perché non c'entra niente Non c'entra niente Non abbiamo impoderito il pianeta Te lo giuro Noi tamarri Comunque abbiamo a cuore il pianeta Ecco dove sono finite Tutte le arselle Uno a uno ragazzi Palla al centro Voglio Uno a uno Sì Uno a uno per ora Perché poi Ti immagini però Ascoltare gli oasis Gli u2 Con i ciuccetti Sono un po' confusa Ma sono sempre stata un po' così Con un muro di conchiglie davanti Raccolto dai miei amici alternativi Da questa Ma non mi ha preparato una serata No vai a ballare Vai a ballare Vai a ballare Quindi c'è un pareggio Perciò dobbiamo forse fare appello Al tuo ricordo migliore Degli anni 90 Devi pescare nella tua memoria E devi scavare nella tua identità Di adolescente Di ragazza Di giovane Di belle speranze Degli anni 90 E capire Se in quell'anima lì Nell'anima di Federica Nel 1998 La butto lì C'è un'anima tamarra O c'è un'anima alternativa Devo scegliere proprio Ah devi Sta salendo una tensione Ragazzi non lo so Dovessi scegliere Quella Federica di oggi Direi alternativa Probabilmente Verosimilmente Ero più tamarra Sì signori Grazie Ma no Questa cosa È sugli anni 90 Non è sull'oggi Ho capito Ma è la Federica di oggi Che abbiamo ospitato Quindi Quindi Chiedo aiuto del pubblico Dai la Federica dell'ora È la tamarra È la più tamarra Che è alternativa Purtroppo Grazie Quindi avete vinto voi Abbiamo vinto noi Con le nostre conchiglie Federico Però ascoltavo Musica alternativa Su questo ci tengo Ma stasera Ascolterai solo Please don't go Trenino Conchiglie Io Va bene Usciamo di qua Andiamo a metterci Ci riconosceranno Saremo quelle con le conchiglie Lanceremo una nuova moda E li faremo rivivere Grazie Fede Sono contenta Finalmente mi hai fatto vincere Grazie Ci sta Perché È la prima volta che vinci? No Non è la prima volta che vinco Vincere 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 Sì Fede Mi sta un po' dando la paga Va bene Grazie Mi dici però la cosa che Sì ti corrompevo Mi dici la cosa che più ti manca Degli anni 90 Forse la spensieratezza Dai Ho voluto un oggetto No no La spensieratezza La spensieratezza Degli anni 90 È una cosa stratta molto bella Sì Sì E vi dirò Mi manca anche il Walkman Stupendo L'idea di essere rumorosa Anche nel cambiare i cassettini O cd forse Già nel 90 c'erano i cd Quello sì L'idea di cambiarli Era molto romantico L'idea di ascoltare tutto il cd Prima di cambiarlo Comunque di Quello E mi sembra di capire Anche i ciuccetti A cui avete fatto riferimento Iconici Sì sì certo Dai quelli erano carini Probabilmente oggi Eviterai di metterli Ma Non si sa mai Non si sa mai Però mi ricordano quegli anni lì Che erano spensierati E colorati Grazie Fede Grazie a voi ragazzi Ci vediamo stasera Mi raccomando Trenino scarpe comode Certo Ce li ho già Sfide da 90 Da che parte stai È un podcast con me Federico Russo E Daniela Collu Che sarei io Autore Walter Proserpio Cur editoriale Alessandra Bruno Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi Supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Un podcast Sky Italia Realizzato da One Podcast Ricordati di seguire il podcast Per rimanere aggiornato Sulle prossime puntate